E' stato un round table molto interessante perché abbiamo sostanzialmente avuto l'occasione di confrontarsi con realtà assolutamente diverse, di aziende che producono prodotti, alcuni che arrivano a servizi, che però hanno lo stesso paradigma di trasformazione. La trasformazione ormai di un'azienda deve passare sotto il paradigma della trasformazione digitale, dell'Information Technology, la parte di processo e la parte di smart working. Tutto questo però deve essere fatto nella massima sicurezza per non andare a creare sostanzialmente tecnologie che possono abilitare il business, possono effettivamente ampliare il mercato, ma possono poi effettivamente creare delle brisce di sicurezza e quindi non essere più abilitanti ma disabilitanti rispetto a quello che ci si aspetta. Sicuramente un approccio fondamentale è quello di creare dei piccoli, micro obiettivi cui perseguire con iterazioni brevi nello spazio temporale e quindi poi avere dei feedback, di misurazione di quelli che sono i feedback che hanno la stessa valenza dell'ipotesi di base per una trasformazione digitale. È evidente che la parte di smart working associata a quella che è la cloud services, quindi il fatto di centralizzare le informazioni, aumentare la collaboration, quindi le informazioni che vengono recepite e vengono scelate tra il personale e i colleghi di un'azienda sono fondamentali per poter proseguire un obiettivo comune. Tutte le persone dell'azienda non avevano una visione a 360 sostanzialmente. Tutto questo deve essere condotto a quello che è quindi il paradigma di fare qualcosa di innovativo nei tempi giusti e con tutta la sicurezza adeguata.